Quando uso il passato remoto di qualcosa o di un verbo? Beh, intanto si tratta di un ricordo, però è passato e non mi va poi tanto di parlarne o di raccontare. Perché? Perché è un brutto ricordo o altrimenti perché non ho una buona memoria. E quindi il passato remoto del verbo ricordare è io ricordai. Tu ricordasti, lui o lei ricordò, noi ricordammo con due M. Voi ricordaste, loro ricordarono. Leggiamolo insieme. Io ricordai, tu ricordasti, lui ricordò con l'accento sulla O. Noi ricordammo, voi ricordaste, loro ricordarono. Dato, alla prossima.